buongiorno amici dell'uncinetto e buona domenica la domanda di oggi è avete visto la cravatta che indossava canino ieri sera ballando con le stelle cosa ne pensate mi fa piacere sentire i vostri pareri cosa ne penso io che l'uncinetto è stupendo splendido ma c'è un limite a tutto ciao a tutti buona giornata